Get ready with me, andiamo a ricreare questo trucco con qualche novità da Sephora, vi racconto che cosa ho stocchicciato, che cosa ho comprato e ci vediamo tra poco con una faccia un pochino più sfatta di questa. Ciao, io sono Laura e oggi facciamo un Get Ready With Me, come forse si capisce dalle mie condizioni. Quindi, volevo raccontarvi, volevo fare un Get Ready With Me chiacchierato, perché qualche giorno fa sono stata da Sephora, io ci sono andata ovviamente perché volevo stocchicciare le cose di House Labs, ma ho avuto modo di guardare e toccare con mano le consistenze di alcune cose che avevo visto in giro per il web, in giro per i social e mi sono fatta delle impressioni, delle idee che mi andavo a condividere con voi. Quindi adesso io ci truccheremo insieme e io intanto che vi parlo vi faccio vedere le foto delle cose che ho visto, che ho stocchicciato e di cui ho voglia di parlare insieme a voi. Comincio dalla skincare, vi faccio vedere, non vi racconto quello che sto usando, ma ve lo faccio soltanto vedere così che velocizziamo un po', poi come al solito trovate sempre tutti i prodotti utilizzati di sotto nell'info box, quindi trovate sempre i riferimenti di tutto. Comincio dalla skincare perché in realtà con mia somma sorpresa, perché di solito non compro niente da Sephora di skincare, una delle cose con cui sono uscita dallo store, sono andata dallo store di Roma 2, qui a Roma, una delle cose con cui sono uscita in realtà è un prodotto di skincare di un brand super conosciuto, ed è questo qui, il nuovo cleanser che è uscito abbastanza recentemente di Charlotte Tilbury, io non ho mai provato niente di skincare di Charlotte Tilbury, in realtà ho provato di Charlotte Tilbury solo i rossetti, quindi non posso dire niente, però questo, mentre mi facevo i miei giri per lo store di un Roma, ho, ovviamente ho fatto un centinaio e mezzo di swatch, e chiaramente tra uno swatch e l'altro andavo a pulirmi la mano ai banchetti che tutte le Sephora hanno, appunto i prodotti struccanti, e quando ho usato questo prodotto di Charlotte Tilbury mi ha veramente colpito la consistenza, ha sciolto in un attimo gli swatch che avevo, e quindi ho detto vabbè, senti, facciamoci un regalo, era una giornata un po' del cacchio, quindi avevo bisogno di un regalo, e effettivamente me lo sono fatto, non l'ho ancora provato, non l'ho ancora messo in uso, però insomma mi ha incuriosito, io di solito non compro da Sephora la skincare, perché preferisco i prodotti, a parte vabbè di cosmeticoreana, ma non solo, io compro quasi sempre online, ho tutto quello che mi serve, e quindi evito diciamo di solito di comprare il negozio, però questo mi aveva talmente tanto colpito la consistenza, che ho detto vabbè proviamo questa cosa, costa un botto, perché costa tipo 30 euro, e quindi non è che sia proprio una cosa economica, però appunto avevo bisogno di una coccola, e quindi ho detto vabbè proviamo questa cosa, tra l'altro non so come mai, ma la skincare, cioè la skincare in generale, i prodotti struccanti di skincare hanno cominciato a costare, non so se l'avete notata anche voi, un sacco di soldi, e quindi questa cosa è un po' a me, soprattutto questi prodotti un po' tipo balsami struccanti, oli struccanti, oli densi, e cose di questo genere, qui veramente hanno cominciato a costare un botto, però vabbè ha voluto fare questa cosa, questa pazzia, e quindi niente, mi sono presa sto struccante di Charlotte Tilbury, tra l'altro ne ho sentito parlare recentemente da Giovanna Louvison, che ne parlava, ne ha fatto un paio di volte, ne ha parlato recentemente nei suoi video, e diciamo lo aveva inizialmente un po' sono riuscita a farlo cadere inizialmente un po' snobbato però poi nell'ultimo, in uno degli ultimi video che insomma in cui parlava di come si trovava con gli ultimi prodotti riesco a aprire la protezione sola che io metto sempre perché anche adesso per esempio sono di fronte a una finestra e quindi preferisco sempre proteggere ecco ci sono riuscita diceva appunto che se inizialmente non l'aveva particolarmente colpita poi si è convinta insomma si è appassionata del prodotto perché le lascia una pelle molto molto morbida, molto bella ora io e Giovanna Lovison abbiamo una pelle decisamente diversa perché lei ha una bellissima pelle a parte qualche macchia ma insomma la compattezza e la luminosità insomma è proprio bella mentre io evidentemente no e soprattutto lei ha una pelle secca mentre la mia è mista diciamo normale più verso il misto nei mesi estivi cioè in questo periodo mettiamo la skin care da parte e passiamo alla base e quindi appunto lei ne aveva parlato e niente mi era rimasto no in realtà non mi era rimasto in testa mi ha veramente solo colpito il fatto che nel momento in cui ho provato a come si dice a sciogliere il trucco lì sul momento con un dischetto mamma mia un effetto che mi è piaciuto tanto quindi vabbè ho detto vabbè forse è destino non ho comprato moltissimo però mi sono ripromessa che con il prossimo stipendio magari faccio di nuovo un salto dunque metto un primer un primer un po' solo perché lo voglio lo sto utilizzando ne metto pochissimo perché poi testeremo due fondotinta andò io un po' a quali uno quale qual è uno comunque metto questo primer di Danessa Milix ne metto pochissimo giusto per dare un altro un altro pochino di idratazione ai lati più esterni del viso e poi invece metto un primer mattificante sulla zona T così questo è un primer che dovrebbe avere una tecnologia credo di avervene già parlato dovrebbe avere una tecnologia che lo rende allo stesso tempo idratante ma anche leggermente opacizzante invece il prodotto che vado a mettere come primer pacizzante proprio è questo qui di di Catrice lo metto solo nella zona T non è che mi pare che abbia questo effetto pazzescamente mattificante però lo metto comunque quindi la cosa che volevo assolutamente testare era il fondotinta di House Labs tra l'altro ho trovato una commessa stranamente perché di solito le commesse di Sephora a me non piacciono invece lì al allo store di di Euroma 2 c'era questa commessa che è stata veramente molto carina mi ha fatto mi ha subito detto che se volevo dei prodotti insomma dei campioncini potevo chiederle è stata veramente deliziosa e infatti insomma devo dire che questa cosa un po' ha avuto la ripercussione che mi sono che alla fine ho acquistato cose che altrimenti non credo che avrei acquistato cioè se mi avessero diciamo trattato come mi trattano di solito non credo che avrei acquistato niente quindi uno dei due fondotinta che mi sono fatta dare in campioncino è quello di House Labs è la primissima volta che lo uso ho scelto la colorazione 070 andando lì dovrebbe avere un effetto diciamo luminoso però ha una consistenza che mi è lì sul momento e che confermo anche adesso mi piace parecchio perché è coprente ma sottile ed ha questa luminosità che non mi dispiace è un altro di quei prodotti che danno una luminosità diciamo naturale non metallica come invece tanti di questi prodotti di nuova generazione danno o almeno mi pare viano quindi questo è l'effetto un bel effetto perché non ha completamente cancellato le discromie e le imperfezioni però sicuramente uniformato e reso la pelle un pochino più bella qui che cosa c'è vediamo se trovo una cosa a cui guardarmi un po' più da vicino non so cosa siano questi forze peeling forse non va d'accordo non lo so no però adesso ho tolto quei piccoli residui io ho un po' una pelle che è un po' disastrata per esempio qui intorno al naso si è molto screpolata e anche con il fondotinta che sto usando in questo periodo che non mi piace per niente che è questo qui in realtà mi evidenzia moltissimo le intorno al naso le parti più secche del viso però vabbè quindi devo dire l'effetto bello è sottilissimo sembra alla vista che la pelle sia nuda cioè non sembra di avere niente sopra bello molto bello l'effetto ok tolgo questo perché mi stava cadendo quindi vabbè mi vedrete con questi capelli ancora completamente bagnati si asciugheranno mentre facciamo il trucco ok quindi questo era il primo fondotinta che ho voluto farmi dare in campioncino ma poi sono andata allo stand di Makeup by Mario e diciamo mi ha incuriosito un po' il fondotinta che mi sono fatta dare in due colorazioni la 2N non mi ricordo se ho detto nel fondotinta HouseLab la 070 ho scelto e mi pare che diciamo match abbastanza bene invece di Makeup by Mario mi sono dovuta far dare due colorazioni la 2N e la 3W perché è meno cioè non c'è una shade a meno shade diciamo HouseLab ha veramente tante tante shade e quindi non ce n'era una veramente precisa e per cui me ne sono fatta dare due in modo che le mischio e vedo se mi piace ovviamente questo comporta che ma che mi faccia impazzire l'idea perché vuol dire che poi quando quando lo devo se dovessi decidere di comprarlo vorrebbe dire comprare due shade invece di una oppure aspettare magari l'estate e comprare solo quella un pochino più scura e un pochino più calda la 3W che sta per warm come potrete immaginare forse potete vedere sempre allo specchio città vicino allora questo ha una parte che qui sempre ho questo problema dopo ci andiamo a mettere un po' di correttore questo mi è sembrato lì sul momento un pochino meno coprente vediamo che effetto fa in realtà adesso visto da qui mi sembra che più o meno come coprenza siamo lì forse si un pelo meno coprente si un pelo meno coprente lo vedo dalla fronte un pelo meno coprente ma ha comunque un finish abbastanza luminoso quindi ne basta di entrambi mi sembra poco so che sembro sempre un fantasma quando mi trucco con con le shade normali cioè con le shade diciamo adatte quelle che io trovo siano adatte al mio incarnato ma perché il mio collo che invece è meccato in questo caso è molto più chiaro del mio viso quindi quello che vedete il colore della pelle che vedete all'inizio del video quando sono struccata in realtà è molto più scuro è molto più arrossato anche perché chiaramente ha macchie rossori di di acri eccetera di quello che in realtà sarebbe il mio colore di pelle naturale per cui dovete pensare tridimensionalmente come avrebbe detto Doc ok quindi questo è il risultato vado a mettere un po' di correttore metto lo stesso da tutte e due le parti questo qui di Mesauda che ho comprato recentemente perché mi sono finiti quasi tutti i correttori che avevo la colorazione è C30 anche questo è bello chiarino io non amo in realtà i correttori super chiari su di me soprattutto sull'occhiaia perché trovo che sia sempre come dire che faccia sempre uscire un po' il violaccio e il grigiastro dell'occhiaia quando ci metto una cosa troppo chiara però vabbè ce lo faremo andare bene tanto è vero che di solito metto non so non mi andavo di caricare troppo perché voglio vedere come fa non so voglio vedere bene nel fondotinta però di solito ci metto il correttore faccio anche color correction cioè ci metto quel correttore di ripar albicocca sull'occhiaia che mi corregge anche un pochino il proprio il colore scuro dell'occhiaia comunque questo è houselabs e questo è make up by mario vediamo un po' se riesco a mettere una puntina di correttore proprio su questo maledetto qui troppo questa è la modelle e questo è quello che passa al convento ecco qui ok quindi andiamo a fissare con la cipria di by the re però non vi ho detto in realtà quello che 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 ho visto allo store allora mi sono fermata allora mi sono fermata allo stand di houselabs e effettivamente il fondotinta mi ha curiosità mi è piaciuto e quindi ho voluto provarlo il correttore invece mi è sembrato un po' più pastoso di quello che piace a me ora il mio contorno che è molto cioè abbastanza secco e abbastanza diciamo abbastanza segnato vabbè io quest'anno faccio 39 anni quindi diciamo è un contornocchio di una 39 anni non particolarmente pessimo però sicuramente un po' di rughette ce le ho e mi è sembrata una di quelle consistenze che potessero in qualche modo segnare di più questa fare un po' di più questo effetto che segna la pelle per cui non mi ha granché sconfinferato questa l'idea di provarlo invece mi ha molto colpito il correttore di Uda Beauty che io non avevo mai provato non ho mai provato in realtà Uda non è un brand che io ho provato chissà quanto ho fatto un contenuto su Instagram in cui vi faccio vedere come faccio il contouring non vi sto a spiegare adesso però bear with me state con me e non vi preoccupate se adesso vi sembra che sto mettendo una cosa troppo scura troppo macchiosa quindi mi ha molto colpito positivamente ovviamente stiamo parlando sempre di prodotto swatchato sulla mano e quindi vale quel che vale andrebbe provato sul viso però vabbè non ho voglia di fare tentativi strani o al meglio non subito ho voglia di come dire di non sommergere no ho una gran voglia di sommergere di make up ma voglio essere brava e provarne uno alla volta di prodotto uno due alla volta di prodotto non voglio sovraccaricarmi diciamo e quindi però questa cosa mi ha molto colpito non pensavo in realtà che mi sarebbe piaciuto così tanto il correttore di Uda Beauty poi sono passata allo stand di Fenty mi ha colpito gli sdrops che avrei voluto provare ma la carinissima sempre sempre la stessa commessa mi ha detto guarda questo qui io il campioncino se vuoi te lo faccio però ti devo dire che è un po' si tende a a separarsi perché è molto liquido tant'è vero che te lo fanno agitare molto prima di utilizzarlo e quindi se te lo metto nel campioncino rischi che quando arrivi a casa già è più difficile da utilizzare se non lo vuoi utilizzare subito oggi appena torni a casa non te lo consiglio il campioncino e quindi io mi sono affidata perché era stata così carina fino a quel momento faccio una cosa strana che non faccio mai e cioè uso l'illuminante cotto in questo caso è Soft and Gentle di MAC per fissare il contorno occhio questa è una cosa che mi ha fatto venire la voglia di fare Carolina Bonanni che nei suoi ultimi video ha sempre usato sempre un mineralize skin finish ma in un'altra colorazione di MAC per illuminare e fissare il correttore e devo dire che ci ho provato ieri e non mi è dispiaciuto questo effetto quindi adesso ci riproviamo dicevo sono andata nello stand di Fenty e devo dire che sono rimasta convinta mi sono colpita su alcune cose e mi sono fatta le foto perché altrimenti non me lo ricordavo sono rimasta colpita appunto dall'iss drops e vabbè vi metterò tutte le foto a fianco di quello di cui parlo invece e dalla cipria di cui non so se la foto scusate dal fondotinta in polvere che mi è sembrato bellissimo infatti penso che prima o poi lo proverò anche se io non sono più tanto una persona da fondotinta in polvere però mi ha molto colpito perché sembrava veramente molto leggero molto bello impalpabile stupendo e invece non mi ha convinto del tutto il fondotinta in stick che invece so piace molto a Martina Vinay però sfocciandolo sulla mano magari è un problema appunto dello swatch sulla mano quindi non è che lo vedi tanto bene mi è sembrato un po' troppo oleoso per andare bene sulla mia pelle magari lei potrà smentire non so se sto vedendo questo video magari lei potrà smentirmi in caso contrario faccio le sopracciglia intanto e sempre parlando di Fenty invece mi ha molto colpito e vorrei tanto provarlo questo anche il correttore quello nuovo quello idratante mi è sembrato molto più sottile molto più carino e me l'ha confermato anche la la ragazza appunto sempre questa con me è stata tanto carina che mi ha detto che l'aveva provato proprio recentemente su una pelle di una persona molto molto grande diciamo una ultra settantenne che non solo aveva voluto provare sto cercando di aprire la nuova matita di precisione che ho comprato questa di Pupa e mi ha detto appunto che l'ha provato sulla pelle di questa signora e che lei era piaciuto moltissimo era piaciuto sia alla signora ma anche a lei da truccatrice diciamo e quindi insomma era rimasta parecchio contenta anche appunto su una pelle molto più ovviamente molto più segnata della mia però questo mi ha incuriosito molto infatti vorrei provare a provarlo cioè tenerlo a mente per provarlo prossimamente e un altro prodotto per la base sempre fondotinta che sono andata a vedere e che mi ha colpito talmente tanto che poi me lo sono andata a comprare non da Sephora però ho tradito ho tradito Sephora è il fondotinta nuovo nuovo ormai non è più tanto nuovo di Shiseido quello Revital Essence quello super luminoso e allora io già ce l'avevo in testa da un sacco di tempo però pensavo che fosse una di quelle cose che rimane un po' bagnaticcia appiccicosa perché lo vedevo così luminoso anche dalle foto se andate a vedere le foto quelle di promozione proprio sono cioè mega come dire è mega luminoso cioè veramente sembra quasi effetto bagnato per quanto è luminoso possiamo vedere quanto insomma quanto sarà sbagliato per me quanto me repentirò però invece provandolo sulla mano mi è piaciuto tantissimo perché invece ha un tocco molto secco io strabiliata diciamo da questa cosa e quindi ho deciso di comprarne un flacone l'ho comprato però da sabbioni perché il 2-3 aprile sabbioni ha fatto una promo per cui aveva scusatemi brutè mi sono tolta un po' di correttore aveva una promozione per cui faceva il 30% e c'è sempre attivo anche quando ci sono queste promozioni il codice sconto di Michela Di Maio Michi non so pure lei non lo so se guarderà questo video ma io la seguo sempre e ci siamo parlate anche altre in alcune occasioni e il suo sconto del 10% Michela 10 vale sempre anche sui prodotti già scontati quindi un fondotinta come quello di Ciseido che costa mi pare 63 euro a prezzo pieno che è veramente un'esagerazione con questi sconti cumulati arrivava a meno di 40 euro che è sempre un prezzo esagerato però è un prezzo diciamo di un normale tra virgolette brand luxury di fondotinta quindi diciamo che è un prezzo che mi sentivo un po' di più di di poter abbordare e come base mi pare che abbiamo insomma che fossero solo queste le cose che poi alla fine ho provato intanto passo agli occhi e quindi e quindi niente mi sono andata poi a stocchicciare anche un sacco di altre cose che avevo sempre voluto stocchicciare e in particolare ho stocchicciato la palette pretty grunge di Huda che forse ve l'avevo detto anche qui da qualche parte in qualche video mi era un po' mi era salita la scimmia la volevo comprare la volevo assolutamente prendere e stavo aspettando degli sconti decenti per prenderla in realtà quando sono andata lì a a toccarla è effettivamente molto molto fredda un po' troppo fredda per me a me stanno un po' meglio i prodotti più un po' più neutro caldi ho preso anche queste due che sono due matite di sephora di cui sempre mi ha parlato bene quella commessa e che aveva lei un trucco fatto con queste due con questo prodotto in altre colorazioni e me lo sono voluto accattare molto bello adesso parliamo anche delle matite comunque appunto mi è sembrata troppo fredda quindi almeno una cosa buona questo viaggio da sephora anche se mi ha fatto spendere un po' di soldi ce l'ha avuta e cioè mi ha fatto passare un po' la voglia di comprare di comprare quei prodotti questo tipo di prodotto cioè questa palette che invece avrei forse sbagliato ad acquistare online senza stocchicciarla perché è vero che i matt sono molto belli vado intanto a costruire il make up con questo colore qui che è il 13 tiramisù ed è un bellissimo marrone freddino abbastanza freddo diciamo e quindi ho mi sono fatta passare un po' la voglia di comprare questo prodotto questa questa palette il che appunto è una cosa abbastanza positiva perché altrimenti mi sarei comprata me la sarei comprata sicuramente e avrei fatto forse male diciamo ma male insomma l'avrei sicuramente sfruttata però siccome mi sono data il il tetto di massimo 5 palettes quest'anno avrei sfruttato diciamo una cartuccia per quella lì che forse insomma posso in qualche modo risparmiarmi non sono brava a fare la base con con le matite ci proviamo lo stesso e quindi niente quindi mi sono rivolta alle matite ora io le matite non le uso mai cioè di fatto non le uso mai però questa allora la prima che mi ha colpito in verità prima ancora che mi parlasse la la commessa era la matita proprio di house le matite di house labs ha quel verde ha un verde acido che è pazzesco proprio bello però lei mi ha detto guarda tieni conto che questa quella matita lì serve prevalentemente per dei trucchi grafici perché è molto difficile da sfumare e quindi vabbè a parte non l'avrei comprata subito sicuramente perché cioè io non le dovrei comprare di fatto le matite perché sono un prodotto che uso molto poco mi scordo facilmente e già averne comprate due di queste insomma non è stata secondo me una gran mossa però di queste le volevo le volevo prendere se sono waterproof le volevo provare come base per la palette di melt che io ancora sto cercando di far funzionare in qualche modo quella la muerte e quindi vabbè proverò questo farò questo tentativo erano due colori che mi piacevano ho detto vabbè 10 euro l'una 10 euro a matita ho detto vabbè invece 30 euro per quella di houselabs non le avrei non le avrei spesi però devo dire che il colore mi ha veramente molto colpito e poi appunto la commessa invece mi ha detto guarda se ti interessano le matite ci sono queste di sephora che sono ottime e lei aveva un bellissimo trucco fatto con una di queste matite in particolare con una sui toni del teal ma proprio bello bello e niente mi bruto il naso mi continuo a socchicciare la base e e quindi ho detto vabbè prendo queste intanto uso come paletta del giorno una nuova entrata una delle cinque che è la mothership 8 divine rose 2 questa l'ho comprata da una ragazza stupenda che si chiama Sara che stringo fortissimo e niente è una persona speciale e non aggiungerò altro però chi la conosce sa e quindi userò questa qui voglio usare è arrivata proprio ieri voglio usare adesso per vedere come come si comporta non pensavo che l'avrei comprata la la divine rose 2 ma quando si è presentata questa occasione con Sara ho pensato che ne valesse la pena e quindi e quindi niente e quindi niente mi sono appunto così limitata a toccare solo solo la palette la palette pretty grunge non avevo voglia di farmi venire grandi voglie appunto con questo fatto che mi sono data un limite di palette da comprare quest'anno non non volevo farmi venire grosse voglie lì da Sephora e quindi ho detto meglio che non sto chiccio devo anche dire che non è che mi abbiano particolarmente colpita mi abbiano particolarmente colpito quello che ho visto anche solo diciamo senza tocchicciare e quindi non è che ho fatto questa grande grandissima resistenza di fatto ad acquistare cioè a stocchicciare a tenermi lontano dalla stocchicciare quindi vabbè insomma non è andata malissimo questo perché voglio ripulire un po' intorno quindi però passiamo prima che che finisco il trucco occhi passiamo subito a parlare dei blush perché ovviamente ne ho toccati un milione e mezzo ne ho comprato uno e niente allora era andata ovviamente per vedere questi cavolo di blush di house labs e devo dire che sono sono molto carini tant'è vero che l'ho comprato uno dopo lo vediamo insieme vediamo insieme la colorazione anzi se vi va di indovinare a parte prima l'ho un po' fatta vedere ma se vi va di indovinare provate a indovinare e e niente blush di house labs effettivamente abbastanza tanta roba cioè mi sono piaciuti e quindi va bene l'abbiamo provati ho preso il a coprire questo qui più scuro e sì insomma me la sono me la sono sentita di comprarlo subito anche se pure quelli insomma non è che costino poi così poco cioè bisogna dirglielo alla di caga che sti prezzi non è che sono proprio abbordabilissimi ecco si potrebbe fare meglio meglio ha finito lo spazio sulla sulla telecamera sulla fotocamera cioè sul cellulare quindi non so dove era arrivata però vabbè diciamo che continuiamo il il percorso delle cose che sto mettendo questo qui delle cose che che ho visto ho stocchicciato i blush quelli di dior che sono andati virali rosy glow quelli lì e sì carini boh forse un po' troppo hype per quello che sono però vabbè non si può dire che siano cioè una bella texture bellini insomma quando ha swatchato sulla mano hanno detto ah belli sì ok però ripensandoci a come dire senza l'eccitazione del momento carini però non li correrei subito a comprare insomma ecco questo e invece mi sono molto piaciuti i blush di Uda di nuovo molto quelli in stick carini mi è piaciuta molto la texture e mi è piaciuta molto la texture ma questo lo sapevo perché ne ho sentito parlare anche da persone di cui mi fido di quelli di Charlotte Tilbury quelli matt che si chiama sempre quell'applicatore un po' con la con la spugnetta sopra sono molto molto belli effettivamente non mi sono per niente dispiaciuti e quindi questi queste sono state a livello di 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 blush quello che mi ha colpito di di più ah no e poi in realtà avevo ne avevo puntato uno che purtroppo non c'era perché è sempre sempre sold out di cui ve ne parlano tutti bene quindi forse per questo è sempre sold out e che è il blush di Sephora cioè di quello diciamo proprio brand da Sephora che che è in creme un pottino tipo i putty prime i putty blush di di coso di cosi chiamano di 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 ed è bellissimo quello effettivamente sbocciato veramente beh bella cosa bello assai quindi molto 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 caruccio invece sulle labbra allora sempre sono partita sempre dai prodotti di house labs allora dei prodotti di house labs in realtà l'unico che mi è veramente che mi ha colpito veramente e che penso che potrei comprare e che è quello che poi mi ha anche consigliato questa famosa ormai famosa commessa è il lipoil che è veramente carino il lipoil ph reagente insomma non lo so e ovviamente sulla mano l'ho sbocciato avevo un rossettone lei mi ha pure detto se vuoi te lo faccio provare sulle labbra però mi sarei dovuta togliere il rossettone non ce l'avevo voglia onestamente quindi ho lasciato perdere e mi sono persa la matita con cui volevo fare il sotto allora eccola e quindi quello mi è piaciuto molto ma in realtà poi gli liplacor quelli diciamo che sono andati virali perché sono rossetti liquidi però con con effetto ce la posso fare con effetto specchiato ecco non mi veniva la parola e quelli lì in realtà come texture a me non è che ho provati sulla mano non è che a me mi abbiano convinto cioè non penso che li vorrei comprare ecco e invece mi sono molto piaciuti i matitoni le rosse matita rossetto insomma quelli sono molto belli e non mi hanno convinto i lipoil mi sono cercato un occhio i lipoil no non mi sono invece piaciuti quindi quelli di auslabs così poi che cosa altro ho visto mi sono molto piaciuti i nuovi rossetti di mi sa che non ho fatto la foto i nuovi rossetti di Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent che sono quelli shine sempre a click sempre clicchini che adesso molto di moda questa cosa di tipo mettere il il gloss in forma di rossetto e poi farlo uscire piano piano adesso vi faccio vedere quello di di tart che ho io per farvi capire un po' la tipologia e quindi quelli lì erano carini cosa altro cosa altro vediamo se mi viene in mente guardando qui nelle foto ah ho stocchicciato quelli di Uda Beauty quelli nuovi il come si chiama Fofiller carino il nome però no pure quelli non mi sono piaciuti devo dire mi sembravano veramente molto pastosi molto un po' non mi sono piaciuti tanto quindi non quelli non li non li proverei e poi invece dunque finito finita la parte beauty sono andata a sentirmi due cose sono andata proprio mirata a sentirmi due cose profumi intanto apro il blush che è questo questa colorazione è molto è molto bello il packaging mi piace molto perché poi ha questo al il sopra che è dello stesso colore del del prodotto dentro la trovo una cosa molto carina è anche molto comoda quando uno ha tanti prodotti e quindi adesso vediamo un po' così e appunto sono andata dritta dritta a provare bello il colore a provare due profumi che sono girlen mandarin basilic forte perché volevo vedere se effettivamente avesse una durata un pochino migliore del mandarin basilic normale e ce l'ha quindi bello ma ha anche purtroppo in chiusura quella nota un po' ambreggiante ambroxane che a me prende un po' sempre la gola e la cosa mi cambia un po' non è fortissima però siccome il mio naso è un un segugio per questo per quella nota lì perché proprio mi da mi prende la gola mi da fastidio quella nota vabbè che si sente diciamo si sente fortissima in mega mare e si sente però in tanti altri profumi di nicchia intanto i capelli sono ancora bagnati domani avrò la febbre vabbè fa niente mi sa che non lo potrò comprare intanto tolgo la lip mask perché vado a fare le labbra mi è dispiaciuto molto questo questo fatto vado a mettere questo qui che si chiama make it happen che è uno dei dei matitoni in crayon di di Evelyn che secondo me si sta bene con questo trucco occhi e invece sono andata a sentire yummy pistacchio gelato pistacchio gelato yummy forse pistacchio gelato vabbè insomma quello di caiali al pistacchio che l'ultima volta che ci ero andato non ero riuscita a sentire questo è il quello di cui vi parlavo per cui praticamente voi cliccate così e lui esce e ha questo esetto super mega specchiato questo non mi dispiace cioè mi è piaciuto di quello che pensavo e quindi sono andata a sentire quello di caiali che è diciamo è particolare è molto fresco e io diciamo è un profumo strano perché voi pensate pistacchio gelato sa di pistacchio di gelato al pistacchio no sa un po' di mandorla un po' di qualcosa di fresco in apertura e secondo me il gelato non è tanto di come dire per rivocare il sapore del gelato l'odore del gelato al pistacchio ma per dire che è una roba fresca cioè è un profumo che è un gourmand mandorlato vanigliato che però può andare bene per l'estate cioè a chi piace il profumo i mandorlati può diciamo apprezzarlo perché può usarlo in estate senza avere quella quella cosa un po' troppo dei gourmand quelli troppo dolcioni un po' d'estate danno fastidio perché te li senti un po' troppo appiccicosi invece questo ha quella sfera un pochino più fresca che secondo me può funzionare può funzionare anche d'estate e devo dire che non mi è dispiaciuto potrei anche valutare di prendere la mini taglia che il caiali ha sempre quindi non è male vi faccio vedere da vicino il trucco sono molto soddisfatta devo dire che non noto grandissime differenze di resa tra houselabs e mario mario è un pelo meno coprente di houselabs sono tutte e due diciamo non autosettanti cioè un pochetto di non voglio dire pescicosità perché poi vi prende un colpo però un pochetto di come dire di umidità ancora la sento cioè non si sono settati completamente e o forse la mia pelle ha già cominciato a a tirar fuori qualcosa cioè a rigettarne un po' però l'effetto in realtà non mi dispiace per niente il blush bello molto luminoso molto bello molto molto bello il colore è stupendo french rosette lo faccio rivedere molto bello avete visto era un pochettino polverosino però non male molto molto bello lo faccio vedere anche swatchato sul dito è molto cremoso come vedete ha un po' di cioè è un matt ma ha un leggero riflesso luminoso non è completamente piatto bello che vi volevo far vedere ancora vi volevo far vedere lo swatch dell'altra matita quella che ho usato sotto guardate quanto è bella quella che ho usato qui sulla sulla rima inferiore e anche dentro vediamo un po' se riesco a intensificarla un po' dentro è una matita waterproof quindi adesso vedremo come quanto ha retto sono soddisfatta sono soddisfatta ok adesso mi ho dato ad asciugare i capelli vabbè disastrosi comunque allora fatemi sapere se voi avete siete andati a stocchicciare queste cose nuove non solo di house labs ma anche di altri brand di cui abbiamo parlato e che impressioni ne avete o magari se avete provato qualcuno di questi prodotti me lo dite e mi dite quali sono le vostre impressioni se questo video vi è piaciuto questa modalità vi è piaciuta un po' diversa dal solito fatemelo sapere mettendo un like se io vi sono simpatica iscrivetevi al canale e se vi piace vediamo alla prossima ciao ciao